vediamo come ci dobbiamo mettere per questo video mettiamoci così dai altrimenti rischiamo che ci viene storto allora di bala via dalla juve si di bala via dalla juve come la vediamo questa situazione certo io sono onesto io fino all'ultimo ero convinto che la situazione che il braccio di ferro si risolvesse con un di bala che obtorto con obtorto collo accettava l'offerta della juve mi avrebbe anche fatto piacere mi avrebbe tutto sommato perché avrebbe voluto dire che lui prende atto prendeva atto di non offrire non offrire più garanzie dal punto di vista fisico atletico di provare a ritagliarsi un avrebbe cercato di provare a tagliarsi un ritagliarsi un ruolo alla massaro alla massaro per i più giovani massaro nel grande milano di capello specialmente l'anno della champions contro il barcellona lui partiva dalla panchina entrava ed è so provvidenza lo chiamavano entrava e risolveva le partite massaro di bala in un ruolo alla massaro ci avrei visto bene visto le garanzie che non offre più dal punto di vista fisico e invece invece no non è stato lui a rifiutare è stato arriva bene a dire giovanotto qui il tuo tempo è finito giovanotto qui il tuo tempo è finito vedete ragazzi da un lato sono anche contento che arriva bene a me arriva bene piace come dirigente da un lato sono contento per questa nuova linea tracciata dalla juventus io ve lo dissi che arriva bene non viene solo per tappare un buco non viene solo per sostituire parati ci arriva bene arriva bene viene per fare in ferrari per fare alla juve quello che è stato fac in ferrari e tornando alla formula 1 se il risultato è quello di ieri ragazzi ne vale la pena ne vale la pena non fate le calcolatrici qui devo sempre imitare fabio bergovi ma che ci posso fare fabio scusami se tu sei uno dei migliori youtuber su piazza è normale che cerchino tutti limitati me compreso non fate le calcolatrici come dice fabio non inizia perché la juve i soldi ce l'ha la cassa è praticamente senza fondo quindi non non fatevi problemi che non esistono arriva bene sta provando a creare una nuova juve io ho un film che ho già visto e un film che ho già visto e spero che si ripeta perché anche perché signori ora l'altro che rischia quanto pare bernardeschi l'altro che rischia sarebbe un peccato perché onestamente bernardeschi una chance della darei però ragazzi evidentemente in società cercano elementi affidabili prima di tutto dal punto di vista fisico perché signori non possiamo più permetterci non possiamo più permetterci i giocatori a mezzo servizio perché è 4 5 anni che veramente le palle sono arrivate per terra tutti questi infortuni e secondo me in società anche anche allegri qualche tiratina d'orecchia l'ha avuta nel senso di secondo me qualcuno dello staff di allegri saluterà la compagnia secondo me hanno in mente di prendere un preparatore atletico con i controcazzi hanno in mente di fare un mix di giocatori esperti e giovani di prospettiva ecco perché sono su zaniolo credo siano su zaniolo e poi pare abbiano smentito ma onestamente se dovesse arrivare rudiker per me andrebbe bene sono stati fatti degli errori anche quest'estate e quel che mi conforta e che arriva bene sembra averlo capito io credo che lui voglia arrivare in giugno in luglio con la squadra già fatta e che stia man mano risolvendo i problemi di quelli che hanno mal di pancia sin da subito perché secondo me questi scottati dall'esperienza di CR7 ad agosto dell'anno scorso per me sono corsi ai ripari e hanno investito su Vlaovic assicurandosi un attaccante secondo me prenderanno un altro attaccante in quel ruolo un'alternativa a Vlaovic io penso che siamo solo all'inizio dei fuochi d'artificio perché come dicevo prima questo gli arriva bene a me è un film già visto per me è un film già visto vedete ora per i più giovani racconto che è un film già visto 28 anni fa 28 anni fa era 28 anni fa di questi tempi eliminazione dolorosa in Coppa dei Campioni quest'anno 28 anni fa in pochi giorni perdiamo 1-0 lo scontro diretto col Milan un campionato che si avvia a vincere lo Scudetto con Capello ecco perché ho citato Massaro e dopo poco andiamo fuori in Coppa UEFA niente poco di meno che col Cagliari andiamo fuori reti di Fiericano e di Oliveira a Torino dopo che Dino Baggio ci aveva portato in vantaggio che succede a marzo che Boniperti che era andato via poi era tornato con un altro ruolo in società non come presidente va via in marzo stagione non ancora finita viene praticamente annunciato l'arrivo di Lippi da Napoli ma soprattutto in società arrivano Bettega arriva prima Bettega poi arrivano Giraudo e Moggi allora in quella Juve c'erano alcuni mal di pancia perché si era andati fuori perché per l'ennesima volta era fallito l'assalto allo Scudetto c'erano alcuni mal di pancia c'era i due Baggio c'erano i due Baggio solo che Baggio Roberto era pallone adolescente aveva fatto comunque una stagione positiva aveva comunque fatto una stagione positiva anche lui fisicamente cominciava un po' a scricchiolare le sue gini ma Baggio Baggio ampiamente giustificato perché Baggio si era praticamente scassato un ginocchio a 18 anni in fase ancora di sviluppo quindi in tempi in cui non c'era l'atroscopia non c'erano tutte robe un centinaio di punti alla gamba una cosa allucinante passato Baggio che a una certa età intorno ai 28 intorno ai 29 anni comincia a patire è stato lo stesso per Paolo Rossi con i menischi ecco comincia a non essere molto affidabile fisicamente tant'è che al mondiale avrà un inizio un po' così per poi sbloccarsi con la Nigeria per poi rifarsi male prima della finale col Brasile poi c'era Dino Baggio Dino Baggio che dopo la partita col Cagliari fu praticamente messo fuori squadra poi sarebbe andato al Parma e ci avrebbe fottuto una Coppa UEFA anche se noi gli abbiamo fottuto Scudetto e Coppa Italia c'era Müller c'era Müller che c'era il famoso dualismo Baggio-Müller uno dei due doveva andare via anche perché anche perché ecco alcune analogie col tempo di oggi anche perché c'era un ragazzino di vent'anni che cominciava a far vedere le sue qualità questo ragazzino si chiamava Alessandro Del Piero quindi in squadra c'erano tre trequartisti di cui due con mal di pancia a maggio saluta il tedesco Müller che con noi fece due buoni campionati non l'ha presa a cuor leggero con l'accessione di Andy Müller devo dire la verità come non prese a cuor leggero assolutamente l'accessione di Dino Baggio che fece un mondiale strepitoso con la nazionale due gol uno alla Norvegia uno alla Spagna per poi passare al Parma evidentemente evidentemente in quella in quella triade la famosa triade che discutibile quando volete ma di calcio ne capiva come loro fecero questo in pratica loro analizzarono quegli anni là di rincorsa al grande Milan rincorsa fallita al grande Milan loro dicevano in cosa sbagliamo in cosa sbagliamo e loro capirono che sbagliavano nell'imitare il Milan perché noi si provava ad imitare il Milan e quando c'è una squadra che prevale il peggior modo per contrastarlo è imitarla perché sono comunque più bravi di te ci abbiamo provato ad imitare il gioco di sacchi con me ai freddi e sappiamo tutti com'è finita poi poi l'anno dopo con Trapattoni riprendiamo Trapattoni e la squadra fa un upgrade in effetti dal settimo posto arriviamo secondi distanziati di 7-8 punti dal Milan ce ne sono ancora i due punti però arriviamo pur sempre secondi e soprattutto non perdiamo con il Milan in campionato e li eliminiamo in Coppa Italia con Trapattoni col gioco che fa Trapattoni col gioco che fa Trapattoni un upgrade ci fu poi riprovammo a imitare il Milan come? con una campagna acquisti in stile berlusconiano loro pigliano Lentini noi pigliamo Vialli loro pigliano Savicevic noi pigliamo Möller loro pigliano Boban noi pigliamo Dicanio no Ravanelli no Dicanio già c'era e così via loro pigliano che so Papen noi pigliamo Plat e il risultato il Milan rinince lo scudetto noi arriviamo quarti e salviamo la stagione con la Coppa UEFA ma il campionato quel campionato fu una sofferenza io ricordo l'1-5 a Pescara vergognoso sconfitta con Brescia con l'Inter di Bagnoli perdiamo in casa e fuori casa e niente nel 94 facciamo parziale marcia indietro arrivano soltanto di Livio e va via Dicanio più sostanza meno fantasia si torna un po' indietro e poi arriva Andrea Fortunato poi purtroppo Andrea Fortunato che era tra i mal di pancia solo che purtroppo il mal di pancia di Andrea Fortunato era di ben altra natura purtroppo sottolineo perché fece una buona prima parte di stagione Andrea Fortunato per poi avere quell'involuzione che tutti ricordiamo e poi come è andata a finire purtroppo tutti lo sappiamo e niente arriviamo secondi a meno distanza di due anni prima ma arriviamo pur sempre secondi diciamo che la sconfitta col Cagliari in Coppa UEFA fu la goccia che fece traboccare il vaso a fine anno tra Pattoni che arriva al Cagliari viene a Lippi Baggio che mentre che mentre ci trascinava i mondiali la società diciamo che gli riservava il trattamento di Bala quel che ha una piccola differenza che Vlaovic è stato appena acquistato Vialli già c'era allora il nuovo allenatore che fa dà le chiavi dello spogliatoio Gianluca Vialli nonostante Baggio fosse capitano ed è il primo sgarro che gli fanno ed è il primo sgarro che gli fanno quella Juventus che partiva a fare i spenti perché le favorite erano alte il Milan la Sampdoria noi avevamo ceduto Dino Baggio a Möller due pedine che ritenevamo fondamentali per poi prendere Deschamps capitano della Francia che non si era qualificato ai mondiali e Paolo Sosa ottimo giocatore però capite a me la serie A degli anni 90 dove fino a qualche anno prima c'era Reikard Matteus eccetera eccetera capirete che Paolo Sosa non è che fosse un nome che accendeva molto la fantasia e invece quella squadra che mentre Baggio ci trascinava in finale andava in ritiro con Lippi andava in ritiro con Lippi quella squadra si stava forgiando già allora già allora con i Vialli con i Ravanelli con il Del Piero perché il tridente è il tridente Viali Ravanelli del Piero che aveva alzato la Champions League nasce mentre Baggio ci porta in finale ai mondiali poi inizia la stagione Baggio naturalmente titolare poi si infortuna e quell'infortunio si infortuna col Padova ricordo perché stava giocando anche bene Baggio si infortuna col Padova fuori casa e mancherà due tre mesi una cosa del genere nel frattempo esplode Del Piero nel frattempo esplode Del Piero allora con Vialli che si prende i galloni di capitano e leader della squadra Ravanelli in stato di grazia Paolo Sosa che fa girare la squadra che è una meraviglia dietro avevamo ancora Kohler e Carrera della vecchia guarda di Atrapattoniana che poi sarebbero stati ceduti nell'estate successiva ma comunque la squadra andava sulla sinistra prendemmo Jarni Jarni il croato al posto di Andrea Fortunato e il rendimento c'era quell'anno sfioramo un mini triplete quell'anno Scudetto Coppa Italia e perdiamo la finale di Coppa UEFA col Parma di Dino Baggio che ci fece gol andata e ritorno ed allora nasce la Juve dei Rambo la Juve dei Rambo per dare l'assalto alla Coppa dei Campioni la ricordo questo slogan sui giornali la Juve dei Rambo e in una squadra di Rambo non c'era spazio per Roberto Baggio c'era anche lì anche allora c'era un contratto da rinnovare però alle cifre che dicevamo oggi e non a quelle che diceva Roberto e Baggio Baggio gioca l'ultima partita il giorno in cui vinciamo lo Scudetto 4-0 al Parma e poi ci saluta e poi ci saluta e con l'intelaiatura di squadra già fatta già rodata diamo fiducia al ragazzino a a Del Piero che è un po' la stessa storia che sta capitando con Vlaovic eh 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 in effetti è un po' quello che sta accadendo ora con Di Bala ora con Bernardeschi magari anche con Quadrado perché se ieri davano praticamente per fatto Rudiger non può essere solo una voce messa in giro dai giornali evidentemente non sarà magari vero al 100% ma qualcosa c'è qualcosa c'è io non credo che la Juve punterà sui grandi nomi la Juve farà una squadra Giorginio può essere può essere io credo che la Juve farà una squadra dove prenderà un paio di giocatori esperti Rudiger rientra fra questi rientrerebbe tra questi anche Giorginio e poi per poi puntare sui ragazzi per esempio in tanti danno fatta danno praticamente per fatto Scamacca all'Inter Scamacca e l'Inter io non mi stupirei se la Juve glielo so glielo so glielo so basse Scamacca o anche Raspadori perché secondo me questo sarà il nuovo corso della Juve che poi vedete la stessa filosofia che sta usando il Milan e sta pagando io ancora non mi capacito come siano primi in classifica evidentemente sta pagando questa filosofia che è la filosofia di non andare più a prendere il nome per forza il grande nome ma di costruirtelo in casa il grande nome come faceva la Juventus la prima Juventus di Moggi come faceva la prima Juventus di Moggi che ti andava a prendere Zidane dal Bordeaux che cazzo lo conosceva Zidane sono i tifosi del Milan che quell'anno furono eliminati dal Bordeaux e non da Zidane da Dugarri furono eliminati addirittura mi ricordo una battuta di Agnelli quell'anno si giocavano gli europei dove Zidane oggettivamente non fece una gran figura non fece una grande impressione disse l'avvocato Agnelli spero che Zidane non sia quel coso visto agli europei le battute dell'avvocato erano fulminanti e poi il coso visto agli europei anche se secondo me un pochino sofrastimato rispetto a quanto effettivamente mostrato si è dimostrato uno dei migliori giocatori del ventunesimo secolo lui con Ronaldo il fenomeno Ronaldinho Messi e Cristiano sono questi cinque qua Runei diciamo sono questi cinque qua i più grandi del ventunesimo secolo da quel coso visto agli europei preso per quattro lire da Luciano Moggi oggi un giocatore iconico della storia del calcio quel coso visto agli europei ecco nella gestione di Arriva Bene io rivedo molto la prima Juve di Moggi speriamo che i risultati siano gli stessi e devo essere onesto se un po' mi dispiace per Di Bala ma molto 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 meno di quando mi era dispiaciuto per i vari Dino Baggio Möller Roberto Baggio Viali Ravanelli perché poi quella dirigenza non guardava in faccia a nessuno e questo arriva bene a tutta l'aria di fare la stessa cosa e a me Juventino a me sta bene e i risultati prima o poi verranno perché in fondo è quello che sta facendo Maldini a Milan con Donnarumma attuale sta avendo ragione Maldini che sia questa la strada giusta spero proprio di sì per la Juventus iscrivetevi al canale